Il 13 maggio i cattolici di tutto il mondo ricordano la Madonna di Fatima, una devozione che nasce dalle apparizioni della Madonna a tre pastorelli nel 1917 in Portogallo. Anche a Gela la festa della Madonna di Fatima è fortemente sentita. La parrocchia San Giacomo Maggiore, in occasione della festa, organizza ogni anno una celebrazione eucaristica particolare a cui partecipa l'intero quartiere e non solo, in cui viene dedicato sempre uno sguardo ai più bisognosi e ai più fragili. Varie parrocchie ed associazioni durante il mese di maggio organizzano un pellegrinaggio al santuario di Betlemme. Nella giornata dedicata alla Madonna di Fatima, ogni anno tanti sono i fedeli che dalle proprie abitazioni o quartieri si recano spontaneamente in questo semplice luogo di preghiera, che si trova a limitare della città, recentemente restaurato grazie alla dedizione di Dollino e dei tanti fedeli di imprenditori gelesi. Il mese di maggio è il mese della nostra Madre Celeste. Tutti noi siamo chiamati, in quanto Suoi figli, a venire a fare un atto di omaggio a lei, a suo cuore immacolato, e a fidarci come figli miseri alla sua intercessione presso suo figlio Gesù. Questa mattina il nostro parroco, Don Francesco, ci ricordava proprio questo. Un momento anche così complesso della società odierna, bisogna tornare piccoli, perché la Madonna è apparsa così, senza messo in conto, in un momento che neanche loro si aspettavano quando giocavano, ai tre pastorelli di Fatima. Non lo dimentichiamo e abbandoniamoci al suo cuore materno. Onorare la Madonna e pregare per la pace e per il mondo intero. La Madonna di Fatima da sempre è stata un'icona appunto di pace. Sì, perché crede sì, perché a fede sì, tanta, perché ce ne vuole tanta in questo momento di fede. Niente, questa sera c'è praticamente da Sant'Agostino, partirà alle 18 la processione per venire qui a Bitlemme, che è la casa del pane. Una grazia particolare in questo tempo, perché anche ricorre il 13 di maggio. Poi dopo la processione ci sarà la Santa Messa, celebrata da Lollino, da Pasquale di Dio. Una devozione che si ripete ogni anno. Sì, i gelesi sono innamorati da questa gesetta, che è piccolina e fatta per i piccoli. Il 13 maggio è fortemente sentito anche nella nostra città di Gela e tutti veniamo a rendere omaggio alla Madonna. Alla mamma, alla mamma in eccellenza, la Vergine Santa. E questo è il nostro culto, le nostre tradizioni. E questo dobbiamo dare valore, proprio alle tradizioni. E trasmettere soprattutto ai nostri figli, ai giovani, ai nipotini, le cose della fede, perché con tutto ciò che succede nel mondo, quello che dobbiamo far risplendere, no? Sono proprio questi, la dolcezza della fede. In questo caso oggi, il 13 maggio, dove apparve Maria e siamo qui oggi a rendere omaggio alla Madonna di Betty Lemmy. Lei viene ogni anno? Sì. Una visita alla Madonna, tutto qua. Anche tu oggi sei venuta qui per pregare? Sì, sono venuta a fare un saluto in pellegrinaggio alla Madonna. Da dove vieni? Sempre qua da Gela. Sei partita da campo? Sono partita dal porto. Una bella camminata? Sì. È una tradizione questa di fare un pellegrinaggio, anche se breve? Sì, anche se breve, è sempre un momento di meditazione.